E' un senso orgoglio, ma proprio contro Gesù, con Britta, rispettandosi a cui c'è, dobbiamo rispettarci. La parola del rispetto non significa, ciao caro, ti voglio bene, stiamo contenti. Rispetto significa attenzione agli altri, a un bambino. Ecco, ecco, la visione, prima non c'è un pensato, ma pensi non per me, a te, a te, a te e alle altre persone, perché nessuna persona, ma più vivo, ma più grande, si sente messa a me. Con solo, con l'anima sola, con coraggio, con felice. Noi siamo, siamo i guardi di Cristo, non siamo inseriti di Cristo. La parola del rispetto non è un senso umore, nel senso, a te, prendiamo servizio. Prendiamo servizio. E il servizio ha bisogno di esperienza, di bontà, di preghiera, di santamenti, della parola di Dio. Altrimenti, se ne sta buoni, abbiamo bisogno di questo e noi abbiamo fatto questo, e noi abbiamo fatto questi incontri, di Biblia, di incontri di primiera, incontri di catechitrici. Quindi siamo solo un po' la strada. Non tutti possono essere presenti, altri sono fuori. Pregalando per noi, la famiglia si allarga, anche quando mi è stretta, non si allarga con il pensiero, si allarga con gli affetti, con i sentimenti. che non siete portatori, nel senso, è gioposto la parola di portatore. Sì, siete portatori, ma di portare. Dio. La parola è bella, sapete? Potete sembrare una parola così, in casa, in famiglia, a volte di ghiacchere, per doni, per doni. Porto la parola, porto la mamiglia su, la mia anima su, portare verso su, non verso il vaso, verso su, non verso, non verso, non verso, non verso, non verso, non verso, non verso. Quanta sofferenza ha avuto nel tanti passati. Messa. Prima da che sono in viaggio del Tauro, la processione usciva di oro e loro vicina, con la messa, contro una decina di persone. E la croce di dio a due passi, sommesso di marfica, che è impicrita, non c'era colpo di nessuno. ma ci vediamo in questa questa lotta avanza questa lotta avanza pensi e fatti progresso non si è va bene attento è mille persone ma noi ci valutiamo assolutamente no è cresciuta l'indigenza è cresciuta l'esmodienza è cresciuta la fede è la fede che ci porterà sono le parole le parole e la fede è il coraggio lo porto con la braccia lo porto con le spalle perché i nostri si da quelle altre persone ormai per tradizione opinionizzate da qui lo porto anche questo è un segno brutale il colpo del vostro cuore brutale questo margine è vero non è una favola ma è un vero del vostro cuore del vostro cuore portiamo la fede portiamo l'amore portiamo l'umiltà portiamo la benedizione portiamo anche il perdono per essere capace di portare da uno l'altro l'un l'altro d'accia l'amore l'un l'altro è a rendere più grande con il numero e anche con l'esperienza persone tante persone perché attraverso queste persone non c'erano i miei uomini non c'erano i miei uomini non c'erano i miei uomini portiamo il mio pane portiamo il mio pane portiamo la portatore io l'ho lasciata da parte perché tu non voga le volte che sei portatore che sono portatore valerissime la Madonna la Santa eccetera siamo arrivati a un'associazione culturale siamo arrivati a una commissione interna per poter lavorare con la cultura lavorare con l'intelligenza con l'intelligenza eccetera infatti l'intelligenza dice il Gioia di Tav avendo quello che è un libro che è stato meraviglioso è che l'intelligenza ci dà le problematiche abbiamo ammigliato abbiamo l'intelligenza la capacità e anche la potenza la maestria sono maestri anche che sa voi maestri educatori persone di grande cultura e di grande formazione bisogna proprio chiudersi aprirsi aprirsi aprite i cervelli aprite il cuore aprite le anni la vostra esperienza educate i figli odio a questa esperienza bella di comodità di fraternità che il Dio vi benissimo che lo indica credi che la vostra potete venire perché hanno gli impegni del lavoro credi che la vostra è la mia dite la casa la cosa va tutta a casa ammazza baciate i vostri e immaginate i vostri vogliono perché no immagino il cuore l'arma almeno è che ci amiamo ci vogliamo bene perché ce ne vogliamo così l'abbiamo la mamma la mamma papà e papà si sono abbracciati contenti ah che bella 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 e questa libertà libera noi dobbiamo dobbiamo inseguire la libertà non siamo liberi liberi Dio è già la libera e se guardiamo Dio ci go ci go se pentiamo pentiamo perché siamo liberi e quando pentiamo appena Cristo e ci salva che bellezza che bellezza grazie signorio per il dono Dio per il dono di voi carissime fratelli e sorelle di totale di che è la città che ci trova in un'amice un operatore un lavoratore pide l'entusiasmo di gioia di colaggio di fiducia Amen Amen Applausi Grazie. Grazie.